La Commissione o la direttiva non impone un salario minimo negli Stati membri, non può esserci questo obbligo. Quindi esistono due sistemi, abbiamo la contrattazione collettiva soltanto, è quello che avviene in Italia e anche in Svezia, in Austria, in Danimarca. E poi abbiamo l'altro modello, quello del salario minimo più la contrattazione collettiva, non è una scelta, e su questo voglio essere davvero chiaro, non è una scelta tra la contrattazione collettiva o salario minimo, no, è una scelta di adottare la contrattazione e il salario minimo. E perché entrambi? Perché se vi trovate in una situazione in cui la contrattazione collettiva non funziona bene, o perché molte persone non sono coperte da questi accordi collettivi, ecco, e non mi pare che sia questo il caso dell'Italia, oppure la contrattazione collettiva non porta dei buoni risultati perché vi sono degli squilibri tra le parti sociali nell'ambito negoziale. Allora si può arrivare ad una situazione in cui, malgrado una vasta copertura di accordi collettivi, i salari sono molto bassi. E quindi cosa fare in questi casi? Vi sono due soluzioni. O si lavora seriamente sul sistema di contrattazione collettiva per migliorarlo, lo potete fare? Non lo so. E quindi io vi do semplicemente le opzioni che avete. Voi dovete migliorare il sistema di contrattazione collettiva. I sindacati ci sono su tutti i settori, come lavorano, come vengono svolti, negoziati, sono svolti a livello regolare oppure a livello periodico, oppure il contratto vale per dieci anni, ma se poi arriva l'inflazione, magari in un solo anno il risultato conseguito con l'accordo collettivo viene perso. E quindi questo è quello che succede con la contrattazione. Dovete verificare il vostro sistema. Se non funziona bene, potete avere molte persone in povertà, nonostante lavorino. E questo è un obiettivo importante nella vostra società. Dovete dare delle garanzie. E tra l'altro nella direttiva si pensa alle due cose, cioè alla contrattazione collettiva e diciamo che gli stati membri con le parti sociali devono rafforzare la contrattazione e arrivare, se possibile, a un minimo dell'80% di copertura oppure abbiamo un sistema in cui si determinano i salari minimi, non in via esclusiva ma insieme. Ecco, vi faccio un esempio della Germania. La Germania non aveva salario minimo fino al 2015. E chi era contro il salario minimo in Germania? Beh, probabilmente i datori di lavoro. ma anche i sindacati si opponevano ad un salario minimo in Germania fino a che non hanno scoperto, soprattutto dopo la riunificazione che sempre più persone non erano coperte da accordi collettivi dignitosi e che il numero di persone con dei salari molto bassi in un'economia relativamente ricca era diventato un elemento davvero di spaccatura, di frattura e nel 2015 è stato introdotto un salario minimo in Germania dopo un dibattito ad un livello relativamente modesto che poi è aumentato perché hanno anche creato un sistema per adeguare il salario minimo e continuano a parlarne per migliorarlo il che dimostra che in alcune circostanze c'è bisogno di avere un salario minimo perché la contrattazione collettiva potrebbe non essere in grado di coprire una parte sostanziale della forza lavoro e questo non va bene per l'economia non va bene avere una grande parte dell'economia con dei salari molto bassi ora il salario non riguarda soltanto l'aspetto sociale non è soltanto un costo come è stato detto è anche un elemento fondamentale per l'economia che si basa sulla domanda se tante persone hanno salari molto bassi ecco queste persone non possono non ci si può aspettare che contribuiscono ad aumentare la domanda interna per questo credo che bisogna bilanciare i due punti di vista e studiare la soluzione migliore per avere dei salari normali diciamo nel paese ora non possiamo dire che il salario minimo in Europa debba essere pari a 1000, 2000 euro, 800 euro ecco questo non è possibile e non vogliamo farlo sarebbe impossibile non si può avere un unico salario minimo a livello europeo quello che abbiamo detto però è di guardare il salario medio non è una cosa da applicare alla cieca ma è comunque un indicatore ed è una discussione che bisognerebbe avere per capire quali sono i salari quante persone sono al di sotto del 60% del salario medio ecco se il numero è grande significa che l'economia ha dei problemi e poi c'è il tema della produttività un paese con salari bassi in cui una grande parte dell'economia ha salari bassi ed è una discussione che ho avuto con i paesi dell'Europa centrale soprattutto ed ora stanno cambiando perché hanno capito il tema quando si ha una grande parte dell'economia con un salario basso ecco questa non è una buona garanzia per avere un'economia produttiva competitiva perché quando si hanno salari bassi i datori di lavoro non investono nelle tecnologie digitali ad esempio magari si potrà lavorare sul mercato locale ma se poi c'è un concorrente che investe in quel mercato più produttivo più competitivo prima o poi si perderanno quote di mercato si perderà la propria attività quindi dobbiamo investire nella produttività questo non può essere fatto se allo stesso tempo non si offrono salari migliori ora so che i salari migliori vanno di pari passo con la produttività c'è un'interazione tra produttività da un lato capacità e lavoro più produttivo dall'altro grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti